Ci aspettiamo naturalmente un pubblico molto ridotto nel numero, questo però presenta anche un'opportunità per chi volesse vedere i tesori nei nostri musei con tutta la calma. Dopo due mesi e mezzo ha riaperto il giardino di Boboli, poi questo mercoledì sarà la volta di Palazzo Pitti, l'indomani degli Uffizi. Un invito particolare Schmidt lo fa ai giovani che non pagano fino ai 18 anni, mentre dai 18 ai 25 pagano un prezzo simbolico di 2 euro, un'occasione anche per le famiglie di visitare e godere delle bellezze del giardino mediceo in tutta tranquillità e lentezza. Siamo ancora con delle temperature invernali ma i primi fiori sono già fioriti, oggi è una giornata bellissima, un'opportunità perfetta per venire con amici, con la famiglia, sempre naturalmente rispettando rigorosamente tutte le misure anti contagio.